Salve a tutti amici, in questa seconda parte del tutorial di Kdenlive vediamo gli effetti base per l'editing delle nostre foto. Quindi non vedremo in questa sezione tutti i vari effetti che ci sono qua nella sezione appunto effetti, ma vedremo quelli principali, quelli chiave. Allora, se volete cambiare la scala, la rotazione, volete spostare la vostra immagine, dovete per forza utilizzare un effetto. Quindi andiamo qua, intanto tolgo l'espansione alle varie sezioni, quindi effetti, preferiti e qua abbiamo trasforma. Trasforma secondo me è l'effetto base, quello più importante. Lo trasciniamo sulla nostra clip che vogliamo modificare e qua vediamo l'effetto. Allora, questa è la timeline per il keyframing, lo vediamo fra un po'. Questo è per andare avanti e indietro nella clip. Ovviamente questa è la timeline della clip, vedete? Io lo sposto e si vede che si sta spostando. Quindi questa timeline è la lunghezza della nostra clip per l'applicazione di effetti tramite keyframe. Allora, questi sono i valori che possiamo cambiare, ma possiamo anche usare il tasto sinistro del mouse, muovendoci qua, vedete? Per poi trascinare la nostra clip. Quindi stiamo spostando la clip, ma possiamo anche ridurla in questo modo, vedete? Quindi anziché andare a cambiare i valori di L e H manualmente, possiamo andare qui col mouse e si fa sicuramente prima. E poi la possiamo spostare sulla nostra clip. Allora, perché vediamo del nero dietro? Semplicemente perché qua non c'è niente. Quindi se noi ridimensioniamo la foto e la riduciamo, ci rimane dello spazio vuoto. Se io questa la porto qua, vedremo ciò che ci sta sotto, ovvero l'immagine. Allora, ho appena riavviato il programma e come potete vedere adesso funziona. Quindi non lo so, questo è un altro dei bug famosi. Allora, non avevo ancora provato a ridimensionare le clip ed ecco che adesso il problema è saltato fuori. Quindi ovviamente qui deve esserci nero perché non c'è la clip sotto, ma qua ovviamente non può esserci nero. Adesso proviamo a sostituire, cambiamo la clip, vediamo se funziona in tempo reale. Sembra di sì, ok. Quindi adesso funziona. Comunque, nel caso succedesse anche a voi riavviate il programma. Qua adesso si vede correttamente quello che sta sotto. Quindi noi possiamo allargare oppure restringere e ovviamente dove non c'è niente si vedrà quello che c'è sotto. A meno che voi non disattivate temporaneamente il video della clip sottostante. A proposito, è possibile disattivare anche l'audio. Vedete, qua l'ho fatto. Quindi possiamo disattivare l'audio della clip. Anzi, di tutta la traccia, volevo dire. Quindi continuiamo. Allora, qua c'è la dimensione, che possiamo comunque cambiare anche da qua aumentando. L'opacità, quindi la trasparenza dell'immagine. E qua abbiamo la rotazione. Ed ecco fatto. Poi possiamo anche cliccare su Distorci. Ruota dal centro. E adesso vediamo cosa possiamo fare con il keyframe. Allora, innanzitutto riporto la X a 0. Anche la Y. La rotazione la riportiamo a 0. Ok. Allora, io voglio fare magari un'animazione. Anzi, facciamola piccola così. Allora, io voglio che questa foto vada da qui a qui. Perfetto. Come facciamo? Allora, andiamo all'inizio della clip. Quindi portiamo qua la timeline. Questa timeline. E qua abbiamo il punto chiave, vedete? Qua c'è un punto chiave. Quindi adesso impostiamo il valore di partenza. Questo. Questo qua. A questo punto vado nella parte del video dove l'immagine deve essere posizionata qua giù. Mi sto muovendo qui ma mi posso muovere anche qui, è indifferente. E poi faccio più. Che vuol dire aggiungi fotogramma chiave. Adesso sposto questa in questa posizione. E cosa è successo? È avvenuta una transizione dal punto di partenza al punto di fine. Torno indietro, come potete vedere, l'immagine si muove. Questa la espando. La foto sotto. Bene. Guardate, questo era il punto di partenza. Questo è il punto di fine. Adesso l'immagine si ferma. Quindi io posso lasciarla ferma per un po'. Poi riaggiungo un altro fotogramma chiave e gli dico fino a qui rimani fermo. Poi da qui alla fine torna in posizione di partenza. Quindi aggiungo un altro fotogramma e sposto l'immagine quassù. Nel frattempo avrei anche potuto dirgli, guarda già che ci sei, ridimensionala, ovvero allarga la foto. Ecco fatto. Quindi in questo caso il cambiamento non è più solamente una posizione ma anche un ingrandimento. Torniamo indietro e vediamo che l'immagine si rimpicciolisce. Vedete? E si ingrandisce andando avanti. Se qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere il keyframing sugli altri programmi avrà sicuramente già capito come funziona. Play. Vedete? E questi sono i movimenti che gli abbiamo dato. Quindi ricordatevi più per raggiungere il fotogramma chiave poi fate le modifiche. Tutti gli effetti che hanno questa timeline e questa sezione possono utilizzare il keyframe. Quindi in questo caso abbiamo fatto un keyframe sul movimento ma possiamo anche farlo su una color correction, una luminosità. Lo vedremo poi nella sezione relativa agli altri effetti. Intanto mi fermo qui. Lineare questo da quello che ho capito dovrebbe riguardare un po' la morbidezza dell'effetto. Se faccio smussatura l'effetto di movimento dovrebbe essere un po' più appunto smussato. Quindi per non visualizzare l'effetto che abbiamo applicato questo. Quindi viene disattivato temporaneamente oppure possiamo cestinarlo qua con il cestino. Ed ecco fatto. Quindi vediamo un altro effetto importante. Il ritagli a bordo. Trasciniamolo qui. Cosa importante è se non visualizzate questa parte magari avete gli effetti che vi coprono la visuale. Ora a me era successo in passato. Comunque vi basta portare verso destra questa finestra per visualizzare tutto quello che c'è. Allora ovviamente il ritagli a bordo come potete vedere serve per ritagliare parti della clip. Quindi partendo da sopra ad esempio da sinistra da sotto e da destra. Poi altro effetto cestino. Posizione e ingrandimento che dovrebbe essere regolazione dell'immagine. Ehm no. Vediamo un po' dov'era. Ah ok non lo trovavo perché non ho selezionato tutti gli effetti video. Attenzione ecco questo è importante. Alcuni effetti non sono visibili ed eccolo qua. Sempre in alfa e trasforma. Quassù ricordatevi di spuntare questo. C'è posizione e ingrandimento. Lo prendiamo e lo trasciniamo qua. Funziona più o meno come l'altro però questo ha una funzione interessante. Allora anche qua posso andare a ridimensionare. E come potete vedere ha anche il keyframing possibile. Però questo ci consente di scegliere il colore di sfondo. Quindi di base noi abbiamo ovviamente il trasparente, la scacchiera. E ciò vuol dire che se noi andiamo a ridurre la nostra immagine si vedrà quello che c'è dietro. In questo caso l'immagine altrimenti se riduco ci sarà il nero. Ecco fatto. La riporto. Noi qui possiamo invece dirgli che non vogliamo quello che sta sotto ma vogliamo un colore di sfondo. Quindi clicco e gli dico che voglio il colore rosso. No non l'ho ancora, non l'ho confermato. Andiamo un po' clic. Clic. Ok. No. C'è qualcosa che sbaglio. Proviamo a trascinarlo da qua. Forse fa parte dei bug ancora. Ok. Non lo prende. Ok vediamo un po'. Peek screen color. Forse è questo. Non mi ricordo come avevo fatto. Peek screen color. Ok. Adesso l'ha preso. Boh non lo so. Comunque. Fate peek screen color e poi selezionate lì. E poi lo prende. Come potete vedere adesso non si vede più quello che sta sotto ma si vede il colore di sfondo che abbiamo scelto. Quindi cosa molto interessante. Posizione e ingrandimento. Cancello l'effetto. Vediamo ruota e deforma. Questo ci consente di ruotare la nostra immagine. e ci sono tanti settaggi. Rotazione asse Z, asse X, Y. Animal rotazione dell'asse X. E qua c'è anche la deformazione X e Y. Dimensione. E anche qua abbiamo la possibilità di cambiare il colore di sfondo. Quando vedete anche questi settaggi sono dei pulsanti che vi consentono di utilizzare delle scorciatoie dell'effetto. Ora in questo caso non sta cambiando niente. Anche qui non so perché. Però se rimettiamo il primo. Ad esempio. Trasforma. Dopo aver ridimensionato la foto. Vedete. Ottengo dei cambiamenti. Quindi questi possono essere utili. In alcuni casi. Cancelliamo. Concludiamo vedendo due dissolvenze. E sono. Dissolvenza dal nero e al nero. Queste due dissolvenze non si applicano come vi mostrerò in seguito. Ma si applicano semplicemente sulla clip. Quindi dal nero la mettiamo qui a sinistra. E al nero la mettiamo qui a destra. Vedete qua. Qua c'è la durata. Quindi possiamo aumentare o diminuire la durata. La clip adesso si avvierà dal nero. Vedete. Eccola qua. E si concluderà al nero. Ecco fatto. Molto molto semplice. Questa è la durata della dissolvenza finale. Questa della dissolvenza iniziale. In realtà avrei preferito un sistema del genere per tutte le transizioni. Invece. Questa cosa qui è relativa solo alla dissolvenza dal e al nero. Che si trova qua. In effetti e non in composizioni. Nella prossima parte vedremo i testi. E poi. Vedremo anche le famose transizioni. Come fare per applicarle su questo programma. Un saluto a tutti.